busoni spesso mi prendeva in giro per la mia abitudine accademica di dire che bisogna guardare alle cose dal punto di vista storico l'ultima volta che andai a trovarlo nell'aprile del 1922 prima che si aggravasse esclamò amichevolmente mio caro dent come sarà felice quando io sarò bello che è andato allora sì che potrà guardare anche me da un punto di vista storico non c'è bisogno di dire che busoni non aspettava replica subito dopo come al solito era già sparito accompagnato dal suo tipico scoppio di risa rombante ed esplosivo abbiamo scelto di iniziare queste pillole di dent con l'ultima frase della prefazione dello stesso dent questa frase è emblematica perché ci dà l'idea della duplicità del taglio della biografia da una parte l'aspetto storico messo in evidenza dalla frase di busoni dall'altra l'aspetto umano messo invece in evidenza da quello che dent dice di busoni dent racconta subito un piccolo aneddoto e mette subito in evidenza un tratto caratteristico la risata di busoni